Mi serve il centratore per andare a montare il disco frizione sul Rascal. Potrei ovviamente usarne uno universale, ma vi voglio far vedere come faccio io in questi casi a crearmelo con la stampante a 3D. Conoscerete sicuramente questo sito, Thingverse, dove abbiamo tantissimi modelli stampabili in 3D. Questo è il modello di un centratore parametrico, quindi noi gli diamo le dimensioni e ci viene generato il disegno con le dimensioni corrette. Ora però ci saranno le dimensioni del nostro centratore. Quindi andiamo su Google e cerchiamo Disco frizione SJ410. Il disco frizione del Rascal so che è identico a quello del 410. Prendiamo un sito a caso, come potrebbe essere Autodoc. Qua gli mettiamo SJ410, una versione a caso, cerca. E abbiamo che il centratore ha diametro 20 mm e ha un mille righe da 18 cave. Per verifica lo andiamo a controllare anche su frizioni di altre marche, sempre a 18 denti. Qua il diametro per esempio non lo danno. Qua dicono che è 20,3, 18 denti e avanti così. Quindi è circa 20 con 18 cave. Prendiamo il nostro file SCAD, questo qua che è quello che ho scaricato dal sito di prima. E qui possiamo dare diametro esterno 19,9 per essere sicuri. Diametro interno almeno un paio di millimetri, quindi 16. Facciamo 15 per sicurezza. Numero di cave 18. E intanto vediamo così cosa succede. Lo salviamo e vediamo che ci cambia il disegno. Allora, la punta è quella che si infila nel cuscinetto che abbiamo sul volano. Torniamo su internet, ci apriamo pazzouk.com Qua possiamo o mettere il numero di telaio o navigare per modello. Il pezzo 26. Ok, qua non ci sono le dimensioni, ma abbiamo il codice Suzuki. Prendiamo il codice, questo è il codice originale, questi sono i codici sostitutivi usati negli anni successivi. Prendiamo l'ultimo, lo cerchiamo su Google e vediamo se qualcuno ne dà le dimensioni. Eccolo qua. Questo sito russo ci dà le dimensioni 10,26, spessore 8. Quindi il foro interno è da 10. Torniamo qui. Quindi qua gli mettiamo 9,9, leggermente meno. Lunghezza della parte scanalata facciamo 4 cm va bene e lunghezza della parte liscia per poterlo tenere in mano facciamo 30 mm. A questo punto generiamo il file STL. Lo apriamo con cura o con lo slicer che preferite e quindi lo andiamo a stampare con una densità diciamo del 60% va bene in PETG va bene così. Ok. Adesso lo copio su un SD lo metto nella stampante e vediamo cosa esce. E questo è il centratore finito. Ed ecco il centratore pronto. Entra perfettamente nelle miglia righe e la punta nel guscinetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.